Buongiorno amici e fratelli Rosa Nero, oggi video con Duchi S, Duchi eccola qua la mia bellissima gattina. Allora, oggi di che cosa parliamo? Purtroppo oggi non vi porto una bella notizia perché sappiamo che domani giorno 11 alle 16 allo Stadio Barbera si giocherà la partita di Coppa Italia, eccola distenditi, la partita di Coppa Italia tra Palermo e Biancavilla, partita preliminare della Coppa Italia che purtroppo sarà visibile solo allo Stadio perché il Eleven Sport che ha acquistato i diritti del Palermo non ha il diritto per la partita contro il Biancavilla, avrà il diritto alle partite successive perché non ha acquistato i diritti per i preliminari di Coppa visto che già questa partita si doveva giocare ad agosto, quindi mi dispiace ma la partita la potrà vedere soltanto chi potrà andare a Renzo Barbera e a vederla di persona. Per tutti noi ci dobbiamo accontentare del risultato, speriamo negli highlight sul canale YouTube del Palermo, comunque analizzeremo la partita degli highlight, il risultato e via dicendo. Però purtroppo non abbiamo modo, noi che siamo lontani da Palermo o tutti quelli che per lavoro e per motivi X non potranno andare allo stadio, sarà impossibile vedere la partita live tramite un dispositivo che sia cellulare, computer, televisione perché non sarà trasmessa da nessuna parte. Quindi ragazzi, purtroppo io oggi non ho altro da dirvi, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale di Luigi Rosanero nel bene e nel male. Sempre forza Palermo!